È stato affidato all'Avvocato Giuseppe Mazzarella, già consulente dell'ATI, l'incarico di avviare l'iter di contestazione delle inadempienze della Girgenti Acque. Stamattina, infatti, l'Assemblea Territoriale Idrica, composta dagli amministratori dell'Agrigentino, si è riunita e ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno, che vedeva appunto l'affidamento dell'incarico. Come spiegato il presidente dell'ATI, Vincenzo Lotà, sindaco di Menfi, il legale invierà la società delle diffide, impegnando il gestore a dare riscontro entro un lasso di tempo fissato. Successivamente, dopo che la società che gestisce il servizio idrico in provincia risponderà alle contestazioni, l'Assemblea valuterà se la strada della rescissione sarà praticabile. Insomma, con l'affidamento dell'incarico si avvia oggi la complessa procedura che potrebbe portare alla risoluzione del contratto con Girgenti Acque, ma la strada è ancora lunga. Sarà necessario compiere ulteriori passaggi amministrativi, che potranno ovviamente essere impugnati dal gestore. Bisognerà poi capire il dopo. Chi si occuperà di gestire il servizio qualora si dovesse arrivare alla chiusura del contratto con Girgenti Acque? Un passo alla volta, quindi. Il primo è stato fatto oggi, il resto si vedrà nelle prossime settimane e mesi.